Sono almeno tre gli episodi individuati in cui sono responsabili i tre giovani di nazionalità africana arrestati dalla squadra mobile di Pescara. Parliamo di scippi e rapine, un episodio particolarmente importante, anche quello, lo ricorderete, di una donna aggredita nel parcheggio di un supermercato. La squadra mobile è riuscita a individuare e arrestare i tre soggetti, sono tutti e tre di nazionalità africana. Gianluca Di Frischia, capo della squadra mobile di Pescara. Sì, sono state più indagini che poi sono confluite in questa misura cautelare emessa dal GIP di Pescara in cui sono stati contestati agli indagati tre eventi di rapina commessi per le vie della città. In particolare il primo è avvenuto in un parcheggio di una zona nota per i locali dove una giovane coppia aveva appena finito la serata e stava riprendendo la macchina e questi due rapinatori si sono introdotti all'interno del loro abitacolo e facendo loro credere di essere armati, minacciandoli, dicendo loro di essere armati, li hanno costretti ad andare a prelevare addirittura in un vicino ATM e a consegnarli la somma in contanti appena prelevata. In un altro episodio invece è avvenuto durante le festività natalizie è stata aggredita appunto una signora in un parcheggio è stata bloccata e poi rapinata del telefono e di una somma di denaro e il giorno successivo addirittura la vittima è stato un giovane straniero che stava facendo compiere in centro che da dietro è stato fatto cadere a terra, è stato aggredito appunto e ha subito la rapina di un'importante somma in contanti. Era il suo stipendio? Pensiamo proprio di sì e anche del telefono, anche in questo caso. I tre insomma avevano precedenti, erano noti alle forze dell'ordine e insomma per il momento potrebbero essere responsabili anche di altri episodi o state indagando? Allora non posso esprimermi sulla responsabilità di ulteriori episodi ma diciamo che questi sono stati gli episodi per cui la procura e il GIP hanno richiesto la misura sono stati isolerti e assolutamente tempestivi è stato un ottimo lavoro di squadra a mio parere noi indaghiamo su tutti gli episodi che sono stati commessi in questo periodo come indagamo appunto a fine novembre e le indagini ci portarono al fermo del ragazzo che era responsabile delle rapine con coltello dei telefoni di altri giovani.